Ornella Vanoni contro Rosanna Fratello, Signorini in escia polemica, la nostra cantante è molto virale. Nell'episodio del Grande Fratello del 29 gennaio, Alfonso Signorini ha sapientemente navigato attraverso la tormentata disputa a distanza tra Ornella Vanoni e Rosanna Fratello. La nostra Rosanna Fratello è la più virale d'Italia, afferma il conduttore, riferendosi al passaggio di Ornella Vanoni a che tempo che fa, dove ha parlato proprio di Rosanna Fratello. Stavo guardando Fazio e Vanoni dire che la gente ha detto che Fratello era al mio posto, ma dalle nostre facce era chiaro che aveva composto solo una canzone. Le parole di Rosanna Fratello prima della messa in onda. Rosanna Fratello ha risposto su Facebook, ma nel corso della trasmissione ha voluto chiarire la sua posizione al pubblico del Grande Fratello. Ne ho fatte tante, e adesso le conoscono anche i giovani. Basta litigare, Ornella, mi fai ridere. Sono io che ho iniziato, sono io che parlo al pubblico popolare. Lei rosicchia? No, non intendo questo. Voglio solo dire che è ora di dire basta a questo. Anzi, cara Ornella, se ci incontriamo, dammi altri consigli. Alfonso Signorini ha scherzato, non sapevo che avesse vent'anni più di te. Rosanna Fratello ha poi ringraziato il conduttore per questa nuova fase della sua vita. Comunque tutto questo è tornato, lo devo a voi. Rosanna Fratello e la risposta a Ornella Vanoni su Facebook. Prima della trasmissione del 29 gennaio, Rosanna Fratello ha replicato su Facebook con tono molto deciso a Ornella Vanoni. Vi ricordo che non canto solo sono una donna, non sono una santa. Il pubblico sa che ho avuto la fortuna di avere una carriera lunga e appagante, tra canto e cinema. Hai avuto una grande occasione con Streler, Io nei panni dell'eroina di Sacco e Vanzetti, diretto dal grande Giuliano Montaldo, un film che ha fatto il giro del mondo. Avevo solo 20 anni quando lavoravamo nella stessa casa discografica, tu ne avevi quasi il doppio. Potresti darmi qualche buon consiglio e perché no, diventare mio amico e invece sei sempre come la regina cattiva di Biancaneve.